Si vota domenica 25 settembre, giornata unica, non domenica e lunedì, quindi mi raccomando, seggi aperti dalle 7 alle 23. La platea elettorale è uguale per tutti, tutti gli over 18 avranno sia la scheda della Camera sia la scheda del Senato, la scheda elettorale per la Camera è di colore rosa, la scheda elettorale per il Senato è di colore giallo. Per la seconda volta consecutiva si andrà al voto con la legge elettorale chiamata Rosatellum che assegna un terzo dei seggi in quota maggioritaria, cioè nei collegi unilominali dove vince chi prende un voto in più degli altri e due terzi invece in maniera proporzionale, quindi appunto proporzionalmente al voto che prendono i singoli partiti. Questa è la facsimile di scheda elettorale della Camera, troverete l'elenco dei candidati nel vostro collegio di riferimento e i partiti che appoggiano il singolo candidato, ovviamente più partiti nel caso si tratti di una coalizione un partito singolo se si tratta invece appunto di un movimento che si presenta in autonomia. Accanto ai simboli dei partiti ci sono poi gli elenchi del proporzionale, cioè i listini bloccati scelti dalla segreteria per l'elezione appunto in quota proporzionale. Come si vota? Due metodi semplici, si mette una X sul nome del candidato o in alternativa su uno dei partiti che lo appoggiano. Facendo un esempio, se il partito numero uno ha preso il 20% dei voti complessivi di questa coalizione otterrà il 20% dei voti attribuiti soltanto al candidato con gli altri tre partiti che si spartiranno il restante 80%. Non è previsto il voto di preferenza, quindi mi raccomando non scrivete niente e tendenzialmente cercate anche di evitare di mettere la X sui listini bloccati. Due metodi, lo ribadiamo, la X sul nome del candidato o la X su uno dei partiti che lo appoggiano. Lo spoglio per quanto riguarda le politiche avverrà immediatamente dopo la chiusura dei sedi, quindi dalla 23 in poi, tendenzialmente tenendo però al conto della difficoltà del calcolo del riparto, difficilmente prima di un di pomeriggio avremo l'elenco completo degli eletti che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia prevede otto deputati e quattro senati.